Ciao ragazzi bentornati su Base Your Life e bentornati a una nuova lezione di basso in pillole per chi dovesse vedere questo video per la prima volta Base Your Life è un canale tematico che si occupa del mondo delle basse frequenze visto sia dal basso elettrico che dal contrabbasso e lo fa pubblicando gratuitamente lezioni interviste test recensioni e tantissimo materiale come già detto tutte le lezioni e tutto il materiale viene pubblicato in forma completamente gratuita se vuoi sostenere Base Your Life ti basta semplicemente iscriverti al canale anche questo è gratuito la lezione di oggi è una lezione dedicata al vibrato e nasce grazie a una richiesta di un utente appunto che mi aveva invitato a parlare del del vibrato sul basso elettrico considerando che abbiamo già pubblicato 197 lezioni e non avevamo mai trattato del discorso del vibrato ne approfittato e ringrazio appunto l'utente per questa richiesta quindi come potete vedere ai miei lati ho due strumenti uno con i tasti e uno senza tasti quindi un fretted e un frettless perché questa differenza fra due strumenti perché vi parlerò di due tecniche di vibrato il primo quello che viene chiamato vibrato orizzontale e che si utilizza tendenzialmente con gli strumenti appunto senza tasti e il vibrato verticale che invece si utilizza sugli strumenti con i tasti quindi iniziamo con questo strumento con i tasti e cerchiamo di capire che cos'è il vibrato innanzitutto prima di partire con l'esempio sullo strumento cerchiamo di capire che cos'è il vibrato il vibrato non è altro che un effetto che va praticamente a cambiare l'altezza o il pitch di un suono e lo fa appunto applicando una modulazione di frequenza se vogliamo trasportare questo effetto al canto possiamo immaginare una linea melodica cantata con e senza vibrato faccio un esempio e chiedo scusa a tutti i cantanti tu si una cosa grande per me dritto senza vibrato invece nel nostro fantastico neo melodico napoletano tu si una cosa grande per me sentite che ho applicato un vibrato questo vibrato che viene chiamato vibrato di gola o vibrato caprino è appunto un esempio molto semplice che ci fa capire come possiamo applicare il vibrato a una linea melodica è naturale che come potete già intuire un vibrato che viene ripetuto molto spesso perché era molto frequente da proprio l'idea di una pecora che sta belando passiamo quindi invece al nostro strumento al basso elettrico cerchiamo di capire la differenza fra un vibrato appunto verticale e un vibrato orizzontale partiamo con uno strumento coi tasti perché uno strumento appunto che quasi tutti utilizziamo rispetto al fretless naturalmente e parliamo in questo caso appunto di vibrato verticale perché il vibrato verticale sappiamo tutti che l'intonazione quindi l'altezza di un suono ad esempio prendiamo questo la ok questo la una volta che il basso accordato naturalmente viene definito dal fatto che c'è una regione che è appunto delimitata da due barrette che mi indica che io trovo esattamente questo il la questo la in questa posizione qui ok come faccio a modulare praticamente il pitch e quindi ad applicare un vibrato se non mi posso spostare al di qua e al di là appunto delle barrette di suddivisione chiamiamole così in maniera molto semplice i tasti sostanzialmente dovrei praticamente fare questa cosa qui se volessi applicare un vibrato in orizzontale ma vedete praticamente che l'escursione della mano è un'escursione molto ampia e quindi si tende a non farla si tende invece a utilizzare questo movimento ok è un movimento appunto oscillatorio che si muove in maniera verticale sia dal basso che dall'alto e va a applicare quindi un vibrato sentite quindi nota ferma ok nota con vibrato dove lo posso applicare quando lo posso applicare il vibrato il vibrato lo posso naturalmente applicare sia in un groove che in un tema quindi in una parte più melodica naturalmente sta al mio gusto personale scegliere dove applicarlo vi farò due piccoli esempi molto semplici di una linea con il vibrato e senza il vibrato partiamo quindi da un esempio di groove sentite che nelle ultime due note che chiudono questo groove io ho applicato una vibrazione e l'ho fatto appunto partendo dal mignolo e vibrando ok quindi sentite appunto che applico questo effetto qui ok naturalmente tecnicamente come ottengo questo risultato mi basta iniziare a lavorare su ogni singolo dito prendere la nota e spostarla in modo tale appunto da applicare una vibrazione uno spostamento che va dall'alto verso il basso ok quindi in maniera verticale vedrete che naturalmente le dita più deboli come sempre risulteranno l'anulare e il mignolo fare un vibrato con il medio o con l'indice risulterà sicuramente più semplice rispetto a farlo con l'anulare con il mignolo infatti quando io vibro con il mignolo solitamente porto in supporto o in apporto del movimento anche l'anulare in modo tale da sostanzialmente sostenere il movimento della mano sinistra questo esempio che vi ho fatto un esempio di un vibrato verticale su un groove se io lo voglio applicare a un tema potrei fare ad esempio questo esempio qui senza vibrato ha veramente una caratteristica completamente differente rispetto praticamente alla linea senza vibrato è un errore non è un errore assolutamente no quando io non utilizzo il vibrato non sto sbagliando le note le note sono sempre quelle la durata è sempre quella l'unica cosa che cambia è l'effetto che io do appunto alla mia linea melodica o al mio groove questo è tendenzialmente quello che noi chiamiamo il vibrato verticale passiamo invece adesso al vibrato orizzontale passiamo quindi adesso al vibrato in orizzontale come potete vedere ho cambiato strumento in questo caso sto utilizzando un fretless e naturalmente il movimento del vibrato orizzontale tra ispirazione da chi questa tipologia di strumenti quindi strumenti senza tasti è abituato ad usarla tutti i giorni come contrabbassisti violinisti violoncellisti eccetera 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 perché è diversa la tecnica rispetto al basso con i tasti perché nel vibrato sul fretless la variazione del pitch è sicuramente più semplice in un certo senso perché basta veramente pochissimo spostamento per poter effettuare appunto un vibrato il vibrato può essere pensato immaginate appunto a chi utilizza all'arco un movimento in ottavi in tersini o in sedicesimi quindi un vibrato un po' più largo e successivamente più stretto in base alla velocità con cui io muovo il braccio ma tenete presente appunto che se questo è il mio la ok non ho più bisogno di fare questo ma mi basta fare questo movimento quando faccio questo movimento sentite già che avviene una variazione appunto del tono quindi del pitch scusatemi ok allo stesso principio posso utilizzarlo sia in una costruzione di un groove ma soprattutto in un tema tenete presente appunto che quando io utilizzo il fretless soprattutto nella parte cantata si acquisisce una sorta di liricità ok maggiore ricorda molto in un certo senso l'utilizzo che può essere fatto con la voce riprendiamo lo stesso tema di prima che spero qualcuno abbia riconosciuto qualche fan degli anni 80 abbia riconosciuto e lo eseguiamo sia con il vibrato che senza il vibrato attenzione naturalmente a come effettuate il vibrato il vibrato sul basso elettrico non è un vibrato di polso il vibrato di polso è un vibrato che non riguarda questo canale che molti ragazzi conoscono perfettamente il vibrato quindi riguarda tutto il movimento interessa praticamente tutta l'avambraccio ok quindi non è un vibrato quello che chiamiamo nervoso fatto solo di polso molto stretto è un vibrato appunto che riguarda tutto il braccio partendo dall'avambraccio alla spalla ok quindi vedete che un conto è fare questo ok è un conto fare questo qui cioè se muovo solo il polso risulterò molto nervoso nel vibrato è poco esteticamente sicuramente poco radevole ma anche meno efficace rispetto al vibrato come viene utilizzato appunto per gli strumenti classici che sono anni e anni e anni e anni di tecnica sullo strumento quindi prendiamo esempio da chi la tecnica la studia da anni prima di noi torniamo quindi al al nostro tema fatto con il vibrato essenza mi sono sforzato ma sono riuscito a non vibrare non vibrare sul fretless è veramente sembra veramente che manchi qualcosa invece adesso lo facciamo con il vibrato sentite che l'effetto è completamente differente attenzione tra l'altro a questa cosa si vibra per ottenere l'effetto e non per cercare l'intonazione perché molti bassisti che utilizzano appunto la tecnica del vibrato vibrano in maniera molto nervosa sperando di poter intercettare l'intonazione giusta no solitamente io arrivo sul punto e poi vibro quindi non è una tecnica che mi serve a correggere un errore è una tecnica che mi serve a esaltare la bellezza di un passaggio o di una melodia quindi attenzione a questo a questo diciamo particolare io non vibro per capire più o meno se sono intonato ok e cercare la strada per risultare intonato io prima arrivo sono intonato e poi vibro per dare un effetto quindi attenzione a questa differenza che è molto importante come avete sentito l'effetto sul vibrato nel fretless utilizzato in orizzontale è veramente una cosa eccezionale anche dalla prima nota sentite che che bellezza rispetto a che è corretta ma manca qualcosa quindi oggi ragazzi abbiamo parlato di vibrato orizzontale e vibrato verticale con due esempi su due strumenti appunto uno senza tasti e uno con i tasti abbiamo visto quindi come applicare questa tecnica questi movimenti che posso fare in entrambi i casi ottengo naturalmente effetti simili ma con caratteristiche di strumento differente la tecnica è diversa nel vibrato orizzontale io praticamente arrivo e oscillo il braccio in modo tale da ottenere un vibrato attenzione a non detto già prima per i ragazzi a non utilizzare solo il vibrato di polso quello è un altro tipo di esercizio mentre nel vibrato verticale io non faccio altro che muovere le dita in maniera appunto verticale applicando una pressione su eventualmente tutte e quattro le dita posso naturalmente applicare la stessa tecnica su tutte e quattro le dita anche quando faccio il vibrato in orizzontale quindi abituarsi a vibrare con tutte le dita ok bene ragazzi detto questo non mi resta che salutarvi se la reazione vi è piaciuta ricordate di lasciare un like e di iscrivervi a base or life noi restiamo sempre aperti a suggerimenti consigli e critiche e anche indicazioni per qualche materiale che può interessarvi dal punto di vista didattico detto questo quindi non mi resta che salutarvi a presto buono studio buona musica e come dico sempre base or life un altro tipo di esercizio